Il Paradisi delle Signore 8, anticipazioni, Tancredi pronto a distruggere Vittorio. Vittorio Conti dovrà fronteggiare un nemico decisamente potente nel corso dell'ottava stagione del Paradisi delle Signore, da settembre su Rai 1. Tornato a Milano, Tancredi di Santerasmo non ha gradito la vicinanza tra la moglie Matilde Frigerio e l'affascinante imprenditore e, approfittando della situazione creatasi con Umberto Guarnieri. Ha dato vita a Galleria Moda Milano con l'intenzione di mettere fine al grande magazzino del rivale. Sembra, stando alle anticipazioni, che nelle nuove puntate della sopla situazione precipiterà ulteriormente. Tancredi furioso nelle nuove puntate del Paradisi delle Signore dopo aver fatto ritorno a Milano e aver compreso che tra sua moglie Matilde Frigerio e Vittorio Conti c'era ben più che una semplice amicizia. Tancredi di Santerasmo ha deciso di scatenare tutta la sua temibile furia con un piano astuto e un alleato di primo ordine. Insieme a Umberto Guarnieri, infatti, Tancredi ha dato vita a Galleria Moda Milano con il chiaro intento di mettere i bastoni tra le ruote a Vittorio ma anche alla Contessa Adelaide. Re ha di aver ostacolato in ogni modo la storia d'amore tra Umberto e Flora Gentile Ravasi. Proprio per la grande bravura di quest'ultimo e per la rassicurante presenza di Matilde, costretta ben presto a trattare per il marito, Tancredi risulterà vittorioso su Conti. Guardiamo insieme l'andamento dell'ottava stagione del Paradisi delle Signore e vediamo cosa succede tra i due rivali in amore e negli affari. Preview Ladies Paradise ha vinto Tancredi? La nuova stagione della popolare telenovela di Rai 1 sarà senza dubbio ricca di colpi di scena. Marcello Barbieri viene coinvolto nello sconvolgente mistero dell'esordiente Matteo Portelli e chiede aiuto alla Contessa di Adelaide di Sant'Erasmo. Mentre Vittorio Conti deve vedersela con Tancredi e la sua Galleria Moda a Milano. Il nuovo Department Store avrà come protagonista la talentuosa Flora Gentile Ravasi, una delle migliori stiliste, ma anche Matilde Frigerio come marketing manager. Novità, Matilde può davvero fare il lavoro, quindi anche se è dannoso, d'altra parte Vittorio sarà scioccato a livello personale perché ama così profondamente Frigerio. In altre parole, Tancredi farà di tutto per eliminare i suoi concorrenti e annientare Vittorio, geloso del rapporto che ha costruito con Matilde. Prima o poi reagirà alla repressione del marito o ne diventerà complice silenziosa?